Noi facciamo parte di questo progetto allenarsi per il futuro e andiamo a parlare nelle scuole per l'alternanza scuola lavoro e in più quando c'è la possibilità abbiamo un po' più di tempo ci piace andare anche sul campo a infondere un po' di fiducia a questi ragazzi perché se possiamo essere un pizzichino di esempio per loro è molto gratificante per noi. E' chiaro che è bello anche raccontare la tua storia calcistica, un po' di fortuna ci vuole. La fortuna ci deve accompagnare sempre insomma al di là del lavoro, della speranza, delle capacità se non si ha quel pizzico di fortuna che ti fa trovare al momento giusto, nel posto giusto diventa un po' tutto complicato però il messaggio che vogliamo passare a questi ragazzi è quello di principalmente divertirsi perché alla loro età deve essere divertimento e poi crescendo piano piano si trasformerà in passione e lì si capisce più che altro se il ragazzo ha la testa giusta per poter cercare di fare qualcosina in più a prescindere il calcio mi ha dato tanto, per me è una scuola di vita e la persona che sono al di là dei risultati che ho ottenuto è perché stando con i ragazzi e seguendo le regole che ci sono nel mondo del calcio nel mondo dello sport in generale ti aiutano a essere una persona migliore. Morino Torricelli per me rappresenta veramente un esempio non soltanto per i traguardi che ha raggiunto ma per come li ha raggiunti e per da dove è partito perché il calcio molto spesso è fatto soprattutto in queste generazioni di simboli, di emulazioni anche magari se vogliamo sbagliate invece Torricelli è stato un fenomeno vero e proprio sotto tutti i punti di vista è uno che ha dimostrato che con il lavoro, con il sacrificio, con l'abbregazione e anche con tante qualità perché lui era veramente un giocatore forte si può vincere la Champions con la Juve, si può giocare il nazionale si può raggiungere gli obiettivi importanti quindi sono stato veramente onorato, emozionato ho vissuto veramente con grande piacere questo perché secondo me è difficile trovare un altro personaggio come Torricelli Un ultimo messaggio che hai lanciato ai bambini, non tutti sono dei Cristiano Ronaldo No, no, nel mondo del calcio ci sono, nello sport ci sono i fuoriclasse e i giocatori normali i fuoriclasse hanno un dono innato e hanno qualcosa che Gesù gli ha donato gli altri sono tutti ragazzi che si possono fare che per atteggiamento, per disciplina o per tantissimi mille motivi possono fare la differenza e per cui se ognuno riesce a portare il meglio del proprio può arrivare a grandissimi livelli